benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi andiamo su trident una delle mappe più vecchie del gioco per rivedere in azione qui sul canale di youtube il piccolo ma mica tanto piccolo destroyer tredici tedesco albing signori la gun bot statica da cortina fumogena del reparto della creeks marine qui impegnata in triplo cap domination una partita senza porta aerei senza sommergibili albing alan trump contro a rugumo grossovoi marsò classico match mckin tierici con due sfortunati tier 8 per lato due north carolina uno sherburg e un almirante grau signori perché torniamo a trattare l'elbing sul nostro canale perché recentemente la wargaming ha pensato bene di arricchire l'elbing con un modulo leggendario come sapete non tutte le navi tier 10 godono di questi speciali moduli assolutamente unici che si possono sbloccare attraverso l'armeria e più nello specifico nel centro ricerche 19.200 costano tutti quella cifra lì prezzo piuttosto standard avete visto recentemente il pietro pavlos che è appunto con il suo modulo speciale oggi vediamo l'elbing abbiamo visto anche abbiamo visto anche passato altre navi di questa tipologia in futuro vi vorrei portare anche l'incrociatore tier 10 gu del leu che anche lui ha avuto uno speciale consumabile questo dell'elbing è molto molto strano come consumabile perché di fatto da tre bonus tutti positivi nessun malus di fatto non ha handicap questo modulo da solo fattori benefici bisogna però capire quanto siano importanti e nell'economia della vostra partita nell'economia del gameplay di questa nave che comunque è rimasta per lo che è invariato nel corso del tempo l'elbing io lo chiamo anche il mini cruiser perché se guardate anche la stazza e le dimensioni anche l'armatura è diversa da quella di un normale destroyer avete già visto in passato nella recensione è tutti gli effetti un mini cruiser quindi chi gioca in crociatori diciamo che maggiormente predisposto come sottoscritto a giocare questo genere di navi quella fiammata che avete visto quella specie di diciamo fumogeno dei cieli per un attimo partito dall'elbing è uno dei bonus unici del comandante luthien quello che quando lui spotta tre navi recupera un tot di hp è una delle sue abilità piuttosto particolari qui siamo stati molto sfortunati perché abbiamo impattato nel pietro pavlos nella zona iniziale lui ha sfruttato un po' con l'isolotto per evitare i colpi e i possibili sull'inarrivo ha avviato subito il suo radar come sapete il radar del pietro arriva fino a 12 km particolarmente potente ma comandanti dura pochissimo ecco perché siamo rimasti qua tranquilli e ora passati i proiettili api cominciamo a crivellare la fiancata della us us montana la battleship r10 vecchia storica del reparto degli stati uniti i nostri siluri sono ovviamente molto molto letti ma li conoscete molto bene ora parliamo nel diciamo nello specifico di questo particolare modulo dal corso di 19.200 punti ricerche che costa appunto quella cifra viene piazzato nello slot finale quello che solitamente sull'elbing offre o la ricarica migliorata oppure l'agitata migliorata perché c'è anche chi utilizza quel modulo dell'agitata migliore è un discorso che poi faremo per quanto riguarda l'agitata magari in secondo tempo quando tratteremo nello specifico le skill e i moduli nella scheda dedicata a queste particolarità della nave dicevo cosa da nello specifico questo modulo è leggendario allora da tre bonus il primo è piuttosto incredibile il 100 per cento di brandeggio migliore delle torri come sapete l'elbing tra le sue pecche c'ha il mimetismo mediocre ma soprattutto ha un pessimo timone e il fatto appunto che questo brandeggio torri sia lentissimo le normali torri dell'elbing girano a 180 gradi più o meno in circa 20 secondi ma con il modulo leggendario scendono a circa 8 barra 9 secondi e su questa nave tra l'altro che possa andare incredibile le torri sono così veloci ma non c'è la rotazione delle torri migliorata del comandante sto giocando con l'utien senza e il marksman quindi senza la possibilità di migliorare la velocità delle torri quindi queste torri hanno questa velocità di collimazione dei colpi solo con il modulo leggendario è un bonus mostruoso a livello di efficienza devo dire che questo so diciamo questo soft lo sentite tutto nel senso che effettivamente si nota la differenza quando ci muovete in particolare con la nave il secondo bonus offerto dal modulo leggendario è la ricarica meno 6 per cento ai tempi di ricarica quindi è più veloce a ricaricare certo non è come il 12 13 per cento del modulo standard che si compra con 3 milioni di crediti ma comunque è un 6 per cento aggiuntivo al brandeggio delle torri e infine l'ultimo potenziamento che riguarda il motore come sapete infatti l'elbing dispone di un engine boost che quando viene utilizzato con il modulo a carbone che noi utilizziamo sul secondo slot può potenziare del 20 per cento la velocità della nave per 171 secondi con 114 di ricarica ecco grazie al modulo leggendario quando è attivo l'engine boost questo potenziamento permette il 12 per cento aggiuntivo di potenza motore quindi è la vostra bandierina più il 20 per cento del boost del consumabile più un 12 per cento di questo modulo che prende che voi che la velocità diventa importante in questo caso sfonda i 45 nodi che sono velocità importantissime per un per un destroyer come lui questo secondo fumogione che avete visto qualche secondo fa questa specie di fiammata dei cieli è il secondo bonus di luthien ed è poi il motivo principale per cui l'ho utilizzato su questa nave quando infatti luthien supera i 140 colpi messi a segno con i canoni principali attiva un bonus di ricarica quindi spara più velocemente ecco perché a bordo di navi come queste o dello z 52 o perché no anche dell'indenburg soprattutto dell'indenburg luthien lavora particolarmente bene anche se vi è detto che questo comandante è veramente pazzesco lavora bene su quasi tutte le navi tedesche se giocate tanto le navi della kriegs marine questo comandante che è ottenibile oggi se non sbaglio a carbone è ancora un ottimo investimento per chi magari vuole privilegiare i comandanti a discapito delle navi dato che comunque di navi ce ne sono centinaia ormai in gioco e alcune sono veramente delle navi clone ormai potete vedere stiamo un po' bulleggiando i nostri avversari perché a parte il petro pavlo simpaticissimo che continua a romperci le scatole con il suo maledetto radar giocando dietro l'isola e credendosi un demoin le abbatte ship avversarie vuoi la slava vuoi l'ohaio vuoi la montana precedentemente che è già colato a picco in precedenza non hanno poi offerto anzi no scusate la montana se la sta dando a gambe ancora dell'inizio partita dicevo a parte e le petro pavlo dicevo le corazzate non sono poi state tanto attiva nella squadra avversaria verde invece a fine punteggio come le nostre corazzate hanno veramente fatto in particolare l'incomparabile veramente un'ottima partita vedere tre corazzate nei primi quattro posti è una cosa assai rara nelle random battle di world of warship stiamo ora utilizzando i proiettili incendiari nonostante abbiamo il potenziamento dei proiettili ap forniti dalla skill sul seconda fascia del comandante questo perché la slava è leggermente inclinata e comunque dovete considerare che questi cannoni che hanno una ballistica incredibile 960 metri al secondo hanno comunque un ben 13 per cento di fire chance quindi la capacità che possa capitare un incendio è piuttosto elevata quando poi ovviamente il target è completamente broadside come lo ha io in questa circostanza noi passiamo tranquillamente alla p e 3 4 5 mila a salva entrano quasi sempre quando almeno il colpo va prepotentemente a segno questi cannoni da 150 sono pazzeschi chi gioca a destroyer comandanti e cruiser giocando spesso soprattutto con i cannoni li troverà sempre bene con l'elbing tra l'altro guardate il nostro punteggio livello di danno e guardate i minuti non siamo neanche arrivati all'ottavo minuto di partita e siamo già a ridosso dei 170 mila danni e stiamo sparando continuamente senza mai avere un attimo di tregua questo perché grazie al comandante con la skill che poi vi farò vedere abbiamo portato le cannoni principali dell'elbing a ben 16 chilometri di gittata e avete visto che anche a quella distanza nonostante sia una distanza importante questi cannoni non perdono di efficacia e comunque continuano a fare molto male o a incendiare questo perché appunto i 150 sono particolarmente portati per il tiro lunga distanza quando l'elbing accorcia le cose si mettono sempre male per lui perché è un po goffo ha un pessimo timone non ha la ricarica di altri destroyer ma quando è libero di giocare tra i 12 e i 15 chilometri può veramente fare dei danni assurdi sugli avversari e la squadra in formazione a sud del cap di alfa credo l'abbia imparato a sue spese ora stiamo andando sul petropello che come sapete ha anche lui una buona armatura ma guardate che anche quando si inclina i danni entrano allo stesso 3 4 mila considerando la doppia salva insomma questi proiettili sono veramente molto molto buoni abusatene sempre da giocate l'elbing perché sia lui che lo schultz utilizzano principalmente questi proiettili effettivamente loro lavorano quasi sempre con il proiettile ap l'incendio in realtà era una seconda arma un'arma secondaria ma è più sempre il proiettile ap il primo munizionamento preferito di questi grandi e giganteschi cacciotropedinieri della creeks marine i comandanti ormai siamo in chiusura se notate non siamo neanche arrivati a metà partita e loro praticamente sono ad un affondamento dalla sconfitta totale guardate dove è arrivato l'ohaio gioca praticamente a momenti dall'altra parte usate la slava gioca praticamente in un'altra mappa ormai ha fatto il passaggio intradimensionale in un altro pianeta l'almirante grau è vivo per puro miracolo ma non so ancora per quanto mentre la slava torna prepotentemente nella città dei nostri canoni e considerando che lì fu il broadside noi non aspettavamo altro che tirarla giù e affondarla tra l'altro avete visto come tiriamo a lunga distanza con poco anticipo sul bersaglio questo perché comunque il colpo è velocissimo avete visto anche come il colpo tende a stringere questo perché a questa distanza pensate che ha solamente 70 metri di dispersione il colpo veramente è chirurgico pochi altri destroyer hanno un tiro così preciso come quello dell'elbing tier 10 la partita ovviamente finisce qui altra salva del petro che per me ci ha odiato in questa partita ha provato ad affondarci in ogni momento e noi concludiamo questo match con quasi 200.000 danni oltre 313 colpi a segno due siluri tre affondamenti qualche incendio e poi il solito lavoro di capture sul cap di alfa per quanto riguarda il team score avete visto come tutto sommato farmando anche tanti danni in poco tempo i punti xp comunque sono pochi questo perché le batte si tendono a recuperare punti vita di conseguenza il danno che effettuate è danno poi recuperato e ha un conto diverso nel conteggio finale ovviamente se fate danno su navi che non si possono curare come alcuni cacciatorpedinieri o le porte aerei o alcuni cruiser di basso tier quel danno effettivamente produce molti più punti esperienza ma se vi fermate a farmi fermate a sparare sulle corazzate che poi recuperano i punti vita i punti xp non saranno tanti come pensate comunque guardate un po grande lavoro dell'incomparabile del Rhode Island della Borgogna dicevo prima tre battesci nei primi quattro posti noi incomparabile Rhode Island e Borgogna abbiamo fatto insieme otto kill poi delle 11 realizzate nel corso della partita dall'altra parte se guardate la Thunder e la Slava due delle migliori battesci da random battle del gioco nelle zone basse della classifica giocatori assolutamente inadeguati per questo standard per quanto riguarda il match guardate un po abbiamo fatto quasi 200.000 danni in solamente 9 minuti e 52 secondi veramente impressionante il danno che può sviluppare l'helbing quando è libero di sparare che poi libero tra virgolette considerando che il Petro ha un po rotto le scatole ma tutto sommato siamo riusciti sempre a gestirlo anche perché come dicevo prima il radar del Petro ha una durata molto molto bassa fortunatamente partiamo ora quello che è il modulo e in particolare l'utility oltre che il setup offerto in questa partita allora cominciamo dai moduli il sesto modulo dicevo lo potete vedere in basso vicino a Mr. Grady o quanto è bello 100% di brandeggio torri quindi la velocità delle torri che diventa incredibile 6% di tempi di ricarica migliorati e poi 12% di velocità massima solo quando il boost speed è in azione quindi in quei due minuti nei quali avrete a disposizione quel 20% di potenziamento motore per tre volte o quattro se deciderete di mettere il sovrediente cose che io non ho fatto in questa conformazione skill moduli e avrete quindi una velocità maggiore quindi l'helbing sfonda i 45 ma diventa incredibilmente veloce e quindi può anche sparare fuori dalla cortina fumogena ecco perché non ho messo il sovrintente perché effettivamente con questo modulo leggendario l'helbing può giocare anche come una gamba sovietica o francese che gioca fuori dal fumogeno una cosa piuttosto rara da considerare ovviamente sempre tenendo conto che dovete stare a una certa distanza per evitare le secondarie e i tiri degli incrociatori perché ovviamente se vi capita contro un demoin che vi tira da quella distanza uno zao è sconsigliabile restare lì broadside a prendere quelle salve di akai potentissime ma se vi capitano le corazzate che sparano ogni 25 30 secondi in quel caso è molto più facile gestire la cosa senza ovviamente andare a tiro delle secondarie quindi sotto i 12 chilometri per quanto riguarda gli altri moduli potenziamento della durata del motore velocità maggiore di sluiri perché sono particolarmente lenti quindi con questo modulo possiamo arrivare pensate a un torpedo da 50 terrenoti quindi immaginate quanto è lento senza questo modulo avete visto già che il tiro era particolarmente preciso di suo quindi non serve andare a potenziare la precisione perché già è molto preciso quindi il modulo che ne aumenta la precisione non serve secondo me sull'helbing e poi ovviamente il consummate che però potrebbe anche essere diciamo bypassato da altro anche se effettivamente non c'è non ci sono altri moduli utili quindi quella è una scelta obbligata discorso diverso invece per quanto riguarda le skill per quanto riguarda le skill abbiamo poi potenziato la resistenza dei moduli il last hand perché altrimenti il motore se si rompe o il timone se parte quello poi non si può recuperare rimanete fermi o cominciate a girare su voi stessi non è una cosa che vi consiglio di fare con una gun bot potenziamento delle bombe di profondità e dei proiettili ap potenziamento della durata della cortina formogena che con questo skill sulla terza colonna a livello 2 avete la possibilità di farla durare fino a ben 97 secondi quindi tanta roba e poi abbiamo ovviamente il potenziamento delle rush gli hp per portarlo oltre i 35.000 punti vita visto che è grosso facile da colpire quindi vi serviranno comunque tanti punti vita e poi il miglioramento sulla prima colonna fascia 4 ovvero le esplosioni antiere ma soprattutto soprattutto comandanti e l'aumento della gitata è quella skill che permette all'helbing di salire dai 13 ai 16 chilometri tecnicamente si potrebbe ignorare quella skill e metterlo sul certo modo ma in quel caso non potreste montare al leggendario comandanti dicevo prima il discorso legato al mimetismo tecnicamente se voi volete mettere per forza di cose una cortina formogena in più potreste benissimo rinunciare allo stealth cioè la skill da 4 punti sulla penultima colonna livello 4 e montarci il sovrintendente per avere diciamo uno in più di cortina formogena in quel caso il mimetismo viene peggiorato di brutto e in quel caso altro che 6 chilometri e mezzo venite spottati molto prima questo vi fa sì che potete comunque giocare da lontano senza problemi perché quello il suo gameplay ma scordatevi di avvicinarvi ai cap perché avrete il mimetismo pari a quello di un light cruiser e non è una cosa proprio bella da avere quindi diciamo che dipende molto dalla partita in un match come quello che avete visto il mimetismo chi se ne frega potevamo anche avercelo peggiore non era un problema ma in altre parti dove magari destra sono più aggressivi contro dove vi mettono in perma spotting potrebbe essere un problema potrebbe lo essere come quindi riesco comunque avere quella possibilità anche perché a me ogni tanto con l'elby mi trovo un po di disagio considerando che vedete essendo un destroyer che spara da lontano gioco spesso lontano dai cap quindi mi sento un po a disagio perché non posso dare quello che danno i normali destroyer e una partita domination con i multi cap questo può essere un handicap nell'economia della partita dipende sempre un po dal match questo comunque quello che l'elby può fare in campo aperto alla fine bocciato o promosso questo modulo per me è promosso ma con riserva vedete da comunque tre bonus attivi sono tre bonus utili è comunque un modulo che lavora bene sulla nave l'avete visto però comandanti una cosa 19.200 punti ricerca sono tanti sono reset per due ogni tre mesi ogni tre mesi se avete il bonus a disposizione e comunque dovete rifare la linea intera non è una cosa da poco oppure sono due reset diversi perché se non avete il per due sui bonus che scade ogni tre mesi avete da resettare due linee 10.000 10.000 per arrivare a 19.200 e so che sono tanti per l'elby quindi è secondo me un buon modulo ma non è così indispensabile come lo stesso modulo su altre navi come sulla yamato come sul gearing soprattutto che va a migliorare di brutto il mimetismo ci sono alcune navi che letteralmente lavorano benissimo con il modulo lui lavora bene ma considerando il costo vero e proprio del modulo in punti ricerca posso capire che magari uno dice sì ma per avere un po più di velocità il brandeggio migliore e una ricarica che alla fine posso ottenere anche in maniera migliore con un modulo che costa 3 milioni di crediti non ne vale poi tanto la pena ed è sicuramente un ragionamento che si potrebbe fare dipende sempre da voi e dalle vostre tasche in punti ricerca io comunque un video glielo dovevo perché comunque è un modulo che è uscito da poco e soprattutto non tutti hanno la disponibilità di provarlo senza pagarlo come nel nostro caso che siamo community contributor e quindi il video dedicato all'elby con il modulo leggendario andava fatto e abbiamo fatto anche questo spero che comunque il video vi sia piaciuto per quanto riguarda il finale come sempre vi ricordo che siamo online durante la settimana su twitch da lunedì al venerdì a volte anche la domenica e sabato non andremo mai più in live dopo le 20 giù nell'info box c'è il link al nostro canale se volete seguirci anche lì vi ricordo come sempre che c'è la possibilità di abbonarsi a costo zero se avete amazon prime lo potete collegare a twitch tenete prime gaming avete la possibilità di abbonarsi ogni 30 giorni senza pagare niente e diventerete dei veri e propri supporter i pilastri della nostra community ovvero i giocatori della bluzy squad che sono i veri e propri diciamo portatori del canale sostenitori del canale perché sono loro che grazie a un piccolo sostegno che offre amazon perché loro non pagano niente tramite l'amazon prime permettono al canale di avere sempre hardware migliori aggiornarsi nel tempo e fare video qui con voi su world of worship un abbraccio e sempre un grazie gigante a tutti quelli che veramente si attivano concretamente per darci una mano con nostra piccola avventura tra i mari del gioco della wargaming signori per oggi è tutto noi ci risentiamo possibilmente martedì con un video riguardante un altro argomento e per il resto ci risentiamo come sempre su twitch durante la settimana sottoscritto ed al barone grigio come sempre buona caccia un altro argomento e per la settimana